La prima delle leader che è venuta qui, proprio fisicamente, che è l'Isline, l'hanno portata nella lavatrice di Rondine e gli hanno detto che loro hanno imparato a lavarsi i panni sporchi insieme e così non sono nemici, sono persone che la pensano diversamente e quindi ha lanciato il messaggio concreto, venite a lavarvi i panni qua, rimanendo differenti ma diventando avversari e mai, mai, mai nemici. È lo slogan che Rondine, cittadella della pace, ha lanciato da alcune settimane, rivolto a tutti i leader politici impegnati nella campagna elettorale in vista delle elezioni europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno. Un appello ad abbassare i toni del confronto, ma non solo. Abbiamo teso la mano ai leader politici, ma a tutti i candidati, perché da una parte si abbia l'idea fondamentale del avversari sì, nemici mai, questo è il nostro slogan. Cioè si può pensarla in modo totalmente diverso, ma si può confrontarsi senza che nasca l'idea del nemico o senza che si alimenti nell'elettorato con comportamenti e parole. La seconda è un'offerta concreta, perché Rondine è sempre concreta. Venite a fare formare i vostri giovani leader, amministratori, locali, nazionali, qui a Rondine, con i nostri giovani che escono dalla guerra. Sicuramente ne nascerà qualcosa di buono. Il ministro Matteo Salvini ha annunciato la sua visita, forse dopo il voto, ma altri hanno già sposato l'appello di Rondine. Allora, stiamo interloquendo con tanti, la risposta è di grandissimo interesse, rigorosamente bipartisan, perché noi abbiamo voluto riaffermare quello che ormai sanno tutti, che Rondine è la casa di tutti. È la casa dei russi e degli ucraini, dei palestinesi e degli israeliani, mancherebbe altro che non fosse la casa di tutti i leader politici italiani. Abbiamo voluto risposte interessate di tutti, quasi tutti. Alcuni stanno rispondendo e ci sarà il dibattito pubblico, altri invece, come Alice Line, chiedono di poter venire e stiamo fissando le date. Saranno occasioni bellissime di incontro e le proposte concrete di formazione per ora cominciano ad avere riscontri positivi.